Il Ministero delle Infrastrutture solleciterà ANAS per una soluzione in tempi brevi di concerto con la provincia della questione del blocco del cantiere del ponte sul Ticino di Vigevano. È stato sottosegretario Michele Dell'Orco ad annunciarlo rispondendo a un'interrogazione della deputata della Lega Elena Lucchini. I lavori al ponte sono pressoché fermi dall'inizio dell'anno dopo che l'impresa esecutrice ha chiesto alla provincia di aumentare considerevolmente il conto economico, opzione che è stata bocciata dal Tribunale di Arbitrato. L'impresa non ha più fatto andare avanti il cantiere e ne è nata una complessa vicenda legale sulla quale però ora arriverà anche l'intervento del Ministero per rafforzare le azioni di ANAS e di conseguenza della provincia. Siamo ben a conoscenza del fatto che si sono susseguita nel corso del tempo una serie di criticità che hanno di fatto fatto slittare i tempi di anno in anno, però ad oggi insomma abbiamo questa grossa problematica, il fatto che i lavori sono fermi e non stanno proseguendo. Quindi di conseguenza chiedo al sottosegretario se il Ministero intende accertare che tutte le procedure relative alle gare d'appalto, all'esecuzione del lavoro siano state svolte in maniera corretta e soprattutto i tempi previsti per la realizzazione dell'opera. La società ANAS conferma che il soggetto attuatore dell'intervento è la provincia di Pavia, la quale sta predisponendo la soluzione progettuale di variante finalizzata proprio al superamento delle criticità evidenziate dall'onorevole interrogante. E tra l'altro ringrazio l'interrogante perché questo ha permesso di dare impulso e concentrare gli sforzi del Ministero, la cui intenzione è appunto interessare ANAS affinché continui la stretta e proficua collaborazione con la provincia di Pavia per l'accelere realizzazione di queste importanti opere. Sentendo la sua risposta mi fa piacere che ci sia un interesse da parte del Ministero a voler sensibilizzare le istituzioni direttamente coinvolte nel merito di questa interrogazione e ci sia la volontà di cercare il più possibile di seguire tutta la procedura per concludere nei tempi celeri la realizzazione di quest'opera. Grazie.